Non posso salire ancora! Dovrai tagliare l'appone! Sono libero! Il convoglio si allontana. Tocchiamo avanzare di più! A tutti! Ho preso un veicolo. Convoglio ancora in vista. Affermativo, gas. Ammazzale più che puoi e raggiungi l'Azwer. Affenera, Presidente, o addio, l'Azwer! Punta pure sui nei soldati, Presidente. Ok. Voi invece dove siete? Ti raggiungiamo. Sei, chiudo. Grazie a tutti. Più avanti c'è un camion verde, dove i soldati li fara! Sì, li vedo! Merda! Erano gli uomini di Bara! Potevano i rischi, sergente. Tu hai tradito un nemico e salvanci! Nick? Che cosa vedi? Ti voglio aprire le sfera! Pischia, li stai fermando! Piu. Le poteau pescat! Piu. Lassati! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.